Una serata per esaltare la bellezza culturale della città di Monopoli, realizzata domenica sera sul sagrato della cattedrale da chi ama le tradizioni locali e con lo scopo di presentare ufficialmente al pubblico la volontà di istituire un premio che vada a celebrare la bravura, le qualità e le competenze di chi ogni giorno si contraddistingue nel proprio lavoro, profondendo il proprio bagaglio culturale cercando di trasmettere la sapienza a chi è meno preparato. Si chiamerà Premio Tre Rose, nome che prende spunto dallo stemma comunale su cui vi sono raffigurate le tre rose che campeggiano su uno scudo rosso. L'iconografia si rifà alla leggendaria storia del riscatto di Monopoli. A questo vorrebbe ispirarsi lo spettacolo che si vuole indire tutti gli anni, da un'idea del professor Stefano Carbonara, presidente dell'associazione Monopoli Tre Rose, editore dell'omonima rivista storica online. Il premio Tre Rose lo vogliamo istituire perché Monopoli merita che riconosca i migliori figli della sua città e i migliori figli della sua città non sono quelli che stanno e vengono a Monopoli a prendersi i premi, ma sono i monopolitani che devono essere riconosciuti nelle loro capacità. Molti sono fuori Monopoli, hanno espresso magari le loro migliori energie nel lavoro, nella cultura, nello spettacolo e magari non le conosciamo. Queste persone devono essere riconosciute per i loro meriti. Noi abbiamo questo scopo principale, quello di valorizzare la storia di Monopoli e i monopolitani. Un momento che ha raccolto centinaia di spettatori attirati dalla cultura locale e che ha coinvolto tanti fruitori e divulgatori della storia patria. Sul palco sono intervenuti il cantastore in vernacolo Cosimo Loperfido, il maestro d'ascia Vincenzo Saponaro, il professor Achille Chilla, docente di letteratura italiana, il professor Martino Cazzorla, dirigente del polo liceale, il giornalista e scrittore Francesco Pepe, la professoressa Amadia Todisco, docente di canto dell'Istituto Statale Vito Santelongo di Monopoli. Io penso che questa città non debba diventare saccente, quindi non dovrebbe andare a premiare tutto il mondo quando invece abbiamo i nostri figli che meritano. Esattamente, hai interpretato bene il mio pensiero, è quello di valorizzare le migliori energie che sono qui presenti, che sono forse non conosciute. Noi conosciamo magari i grandi artisti a livello regionale, nazionale, magari non conosciamo dietro l'angolo chi sta a fare le poesie, a scrivere un libro. Io abbiamo fatto un albo degli scrittori monopolitani che è molto lungo, sia del passato sia del nuovo. Ci molti monopolitani riescono ad amare la città ed esprimersi attraverso la cultura con l'amore alla città e ai propri cittadini. L'appuntamento ha riscosso notevole successo sin dal mattino grazie ad una galleria d'arte nel tunnel che conduce da Piazza Manzoni alla Cattedrale, nel quale sono stati radunati molti artisti locali, un'occasione ulteriore per farsi conoscere e per esporre le proprie opere. Un tunnel che secondo il mio modesto parere potrebbe diventare una galleria d'arte permanente, un po' come quelle che ci sono nelle grandi città. La lanciamo così, che ne pensi? Se sono qui è perché condivido questa iniziativa, per cui potrebbe essere interessante farlo diventare una galleria d'arte. Perché no? Anche perché noi abbiamo pochi spazi utilizzati da un punto di vista di arte permanente. Però siccome abbiamo tanti artisti monopolitani che non ci sono più e che ci sono ancora, perché non utilizzare questi spazi straordinari poi vicino alla cattedrale? Sarebbe il massimo, anche perché poi l'arte e la cultura è qualcosa che nutre la nostra città. Antonio e Nino Brescia, due pilastri, ovviamente anche due punti di riferimento familiari. Cosa possiamo dire riguardo a questi due artisti? Nino Brescia, mio zio, è conosciutissimo anche a livello nazionale, è presente nella galleria nazionale NEIF. Chi non ha un quadro, Nino Brescia è in casa. Mio fratello che è un poeta, pittore, musicista, morto purtroppo giovane, è un grandissimo artista. Forse ancora deve essere riscoperto, soprattutto a Monopoli, ha vinto premi internazionali, però sappiamo che non ha mai profitto in patria, quindi è sempre difficile riuscire ad emergere e far conoscere artisti nel proprio paese. Io spero che cambi questa mentalità e quindi noi abbiamo una grossa risorsa, un tesoro a Monopoli di arte e cultura e di artisti. Dobbiamo puntare anche su questa grande ricchezza. Grazie a tutti.